Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e dunque oggi adesso parliamo della Under 23 che perde il derby con l'Alessandria, prima giornata di Serie C, prima partita storica dell'Under 23 in Serie C, prima partita storica della Juve proprio in generale nella Serie C, non ho mai giocato e sconfitta 2-1, partita che non è stata trasmessa nonostante la gazzetta mi sembra che l'avrebbero data su Sport Italia, e vabbè, comunque, partita che non è stata trasmessa e alla fine ha vinto l'Alessandria 2-0, l'Alessandria che si è trovata in vantaggio 2-1, scusate l'Alessandria che si è trovata in vantaggio subito, poi ha trovato il raddoppio su calcio di rigore intorno al 60esimo, all'85esimo il terzino zappa, ha ridotto le distanze, la Juve poi ha provato a pareggiarla, ma è stato tutto vano, l'Alessandria ha vinto 2-1, allora, cominciamo a dire che sicuramente per la Juve in generale, questo ambiente è totalmente nuovo, cioè la Serie C è un campionato molto particolare, e secondo me il voler giocare il pallone a tutti i costi non va sempre bene in Serie C bisogna anche legnare, soprattutto, tanto, tanto, e bisogna anche buttarla via la palla, cioè non bisogna anche perdere troppo tempo a tenere palla, giocarla, cioè quando sei in una situazione che devi calciarla via la calci in tribuna e via, è un gioco molto più maschio di quello che secondo me si vuole proporre, questo piano piano verrà capito, chiaramente, come ho detto, è una squadra giovane non solo d'età, ma proprio di mentalità, non ha mai giocato in Serie C ed è veramente un campionato diversissimo dalla Serie A o dalla Serie B, quindi niente, quindi è così, ci stava, ci stava, anche perché è vero che la Juve giocava in casa con l'Alessandra, ma siccome la Juve gioca ad Alessandra, era una partita in trasferta, quindi alla fine è un derby, se possiamo chiamarlo così, e insomma, diciamo che si poteva sicuramente fare un po' meglio, però non era facile, insomma, l'Alessandra ha molto più esperienza, ricorda che l'Alessandra è la detentrice della Coppa Italia di Serie C, vinta l'anno scorso, la Juventus invece ha giocato solo le partite col Cuneo e la Bissola nel girone di Coppa Italia, uscendo tra l'altro per differenza reti della prima partita, soprattutto è la prima partita con una squadra di Serie C di alta classifica, quindi insomma, l'Alessandra non è che era una partitella, l'Alessandra comunque nello scorso ha fatto i playoff e non è arrivata, non è riuscita a passare in Serie B, però è una squadra sicuramente tosta, non è una squadra da prendere sotto gamba, e adesso mi aspetto una Juve che cambi marcia subito, che provi a rifarsi la prossima partita, la Juve gioca a Carrara con la Carrarese, vediamo l'orario della partita, e ve lo dico subito, così diamo un servizio completo, la Juve giocherà domenica 23 settembre alle 15 con la Carrarese, e bisognerà cercare di ovviamente, come posso dire, il prima possibile di portare a casa dei punti, io sono uno di quelli che non sono convinto che la Juventus Under 23 possa venire tranquillamente in Serie A, in Serie B, anzi, sono convinto che dovrà puntare a cercare di salvarsi, perché è un girone difficile tra l'altro, c'è Piacenza, Provercelli, Robursiena, il Pisa e l'Alessandra, insomma, non è un girone proprio proprio semplice semplice, lo stesso Arezzo non è una squadra da prendere sotto gamba, per quello dico, secondo me la Juve quest'anno deve soprattutto fare esperienza, e lo farà bene, lo farà bene, con calma, secondo me, farà i suoi punti e dovrà puntare oggettivamente a una salvezza che è nettamente nelle sue corde, poi, una volta salvata, poi si può fare altri tipi di ragionamenti, però intanto prima di tutto bisogna salvarsi, io penso così su ogni torneo, cioè, vale per qualsiasi rosa, no? Cioè, prima di tutto va uno step alla volta, è chiaro che è la prima squadra della Juve, non è che posso dire, dobbiamo pensare a salvarci, la Juve ha altri obiettivi, ma la Juve è una squadra nuova prima di tutto deve pensare a salvarsi, poi può pensare a playoff, poi può pensare eventualmente a salire. Tutto il resto, secondo me, non ha senso, anche perché, ricordiamolo, mi sembra giusto dire, l'Under 23 punterà ovviamente sempre a vincere anche i tornei, però è una squadra creata per far vivaio e far crescere i giovani. Quindi, con calma ragioniamo bene, seguiamo la squadra, perché secondo me è giusto stare dietro a questi ragazzi e vediamo, insomma, secondo me si può tirar fuori qualcosa di molto, molto importante. Ragazzi, chiudo qua il mio video, Alessandria batte Juventus under 23 2 a 1, prima partita storica della Serie C, appuntamento settimana prossima con l'Under 23, quando ci sarà Carrarese Juventus. Ciao!